No, non c'è papà, c'è i trulli. Sei una marimota, sei. Tu sei quello che sei agitato. Hai fatto quelle azioni stamattina? Dopo fai ora a stancarti con il brum brum. Il programma preferito di Manuel. Chi c'è qua? Chi c'è qua? Chi c'è? No, non c'è papà, c'è i trulli. E la trulli? Scusa ma non posso farlo. Chi amore? Dov'è papà? Dì amore, chi è che ti piace? Sto parlando con me? Sì. Ma penserebbe andare via da qua? Chi è che ti piace? Alessandra? The beautiful? Opeliam. Ma come Opeliam? Cazzo non so io sono i miei due nomi che conosco. Ciao. Abbiamo mangiato fuori tutto eh. Dobbiamo andare a casa. Dov'è? Dov'è? Dobbiamo andare a casa? Cazzo? Sì. La smetti con i piedi lì che te li mangio? Ti li mangio? Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi si è un po' di paura? Smettila con quei piedi lì. Fai male alla mamma. Non riesco a capire se ho freddo o se ho caldo. Che male, mi fa ancora male dopo una settimana sto dente. Cosa ridi? Ciao mamma. Ciao mamma. Ciao mamma. Ragazze abbiamo mangiato un paninazzo meraviglioso da Chris a Tesero. Se passate di qua, fermatevi, è un chioschetto fighissimo. Adesso ve lo faccio vedere. No, no. Eccoli qua. Ciao, siamo a Chris and Chris. Eccoli qua da Chris. Fermatevi. È il panino più buono del mondo. E le piramidi di Segonzago. Le piramidi di Segonzago. E poi torniamo a casa. Piove, ma va. Quindi le Alpi di Panteano. Piove, tanto per cambiare. Niente piramidi. Niente piramidi, mi sono pisolata. Vabbè, siamo a casa. Un'altra... Niente piramidi. Grazie a tutti.